Ciao rockstar dell'italiano! Dopo una breve pausa, purtroppo forzata, ti do il benvenuto a un nuovo episodio del podcast di The Italian Coach, il podcast che ti aiuta ad imparare l'italiano in modo indipendente. Nella prima parte parleremo di un fatto di cui mai nessuno parla. Nella seconda parte ho una nuova breve e divertente storia per imparare a notare le differenze grammaticali in modo intuitivo. Fai questo e sarai fluente tra un mese. Vuoi sapere parlare in modo fluente l'italiano? Allora devi assolutamente fare questo. Se segui i miei corsi parlerai meglio di un madrelingua, eccetera, eccetera. Su internet queste promesse si trovano ovunque. E se ti dicessi che forse non parlerai mai correntemente l'italiano? Come? Non preoccuparti, non voglio demoralizzarti. In questo episodio voglio soltanto svelare un segreto che probabilmente nessun insegnante o poliglotta mai svelerebbe. Ah, dimenticavo, sul mio sito trovi la trascrizione completa dell'episodio da scaricare in pdf. Vai su italiancoach.net. Dunque, torniamo al tema principale. Innanzitutto dobbiamo definire cosa significa la parola fluente. Per molti studenti essere fluente in italiano significa saper parlare come un madrelingua o più generalmente saper parlare bene l'italiano. Secondo me significa saper esprimersi correttamente nella maggior parte dei casi senza fare troppe pause. Molti studenti hanno come obiettivo saper parlare come il proprio insegnante, come un qualsiasi madrelingua o come qualcuno che ha imparato bene l'italiano. Si concentrano quindi sugli altri e va benissimo avere dei modelli a cui ispirarsi. Ma attenzione, c'è un aspetto che nessuno mai considera. Prima di tutto devi farti la madre di tutte le domande, ovvero sai esprimerti fluentemente nella tua lingua madre? Cioè sai parlare la tua lingua correttamente e fluidamente senza fatica? Se adesso rispondi ma è logico che io sappia parlare la mia lingua, ti ricordo che parlare fluentemente non significa soltanto conoscere le parole e la grammatica o soltanto essere un buon comunicatore. È la combinazione tra i due fattori. Se quando parli il tuo tempo di reazione è lento, se fai molte pause e le riempi con parole come sai, guarda, senti, cioè, beh, è, tipo, eccetera, e se in generale sei non curante della lingua quando parli, allora probabilmente non sei veramente fluente nella tua lingua. Va bene, Moreno, ma cosa centrano questi fatti con imparare l'italiano? Negli anni ho notato una cosa molto particolare. Per essere fluente in una lingua straniera, nel tuo caso l'italiano, devi prima essere fluente nella tua lingua madre. Il livello che puoi raggiungere in una lingua straniera dipende moltissimo da quello della tua lingua madre. Ho riscontrato questo fenomeno in molti dei miei studenti. Quelli che facevano più fatica con l'italiano, per esempio frasi incomplete, lunghe pause, eccetera, non erano fluenti nella loro lingua e viceversa. Esistono tante persone che sanno parlare senza fermarsi, che sono dei grandi comunicatori, ma che fanno errori, anche grossolani, di sintassi o di grammatica nella loro lingua. E poi ci sono quelli che parlano correttamente, usando un vocabolario vasto, a cui manca però la fluidità e sicurezza. Come vedi, usare vocaboli e grammatica in modo corretto e sapere parlare in modo fluido senza tante pause sono due cose differenti. Tutto questo non significa che un gruppo è meno intelligente dell'altro, anzi, ma ci aiuta a capire come il termine diventare fluente in una lingua viene spesso pubblicizzato e comunicato in modo fuorviante ed inappropriato. Ovviamente nessuno ti dirà mai quello che ti ho appena rivelato. A me sembra però giusto che tu lo sappia per non cadere in false promesse o speranze. Ma ho una buona notizia. Come tutte le abilità, anche quella di parlare in modo fluente, si può imparare con molta pratica, sia nella tua lingua che in una lingua straniera. E adesso passiamo alla breve storia raccontata in due versioni. Iniziamo con la versione di Pierino con la mamma. Pierino va dalla mamma e le dice mamma ho una notizia buona e una cattiva. Allora la mamma gli risponde inizia da quella buona e lui dice la notizia buona è che ho preso dieci al compito di matematica. E la mamma gli risponde bravissimo Pierino, ma la notizia cattiva qual è? E Pierino le risponde la notizia cattiva è che non è vero. Adesso sentirai la stessa storia dal punto di vista di Pierina che sta parlando con il papà. prova a notare come cambiano certe parole. Pierina va dal papà e gli dice papà ho una notizia buona e una cattiva. Allora il papà le risponde inizia da quella buona e lei dice la notizia buona è che ho preso dieci al compito di matematica. E il papà le risponde bravissima Pierina ma la notizia cattiva qual è? E Pierina gli risponde la notizia cattiva è che non è vero e anche per oggi abbiamo finito. Trovi utile il podcast? Allora condividilo con tutti i tuoi amici che vogliono diventare delle rock star dell'italiano. E se vuoi mettere il turbo al tuo progresso dai anche un'occhiata ai corsi di Italian Coach che trovi su italiancoach.net noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!